Salutiamo e ringraziamo il senatore Daniele Pesco, presidente della commissione bilancio. Bentrovato senatore, grazie. Bentrovati. Benvenuto al telegiornale di Poste Italiane. Senatore, partiamo subito dall'attualità perché il governo, lo sappiamo, in questi giorni è intervenuto con un decreto legge ad hoc per arginare l'incaro della bolletta energetica. Tra pochi mesi Poste Italiane lancerà la sua offerta luce e gas. Insomma, l'arrivo di un grande operatore come Poste Italiane, affidabile, senza dubbio, può essere una grande opportunità per gli italiani, per i clienti, uno stimolo al mercato? Guardi, l'esigenza degli italiani, dei cittadini è quella di spendere il meno possibile per la bolletta elettrica e del gas. Quindi più operatori ci sono, meglio è. Il mercato tutelato comunque ha rappresentato per molti anni una ciambera di salvataggio per tutti. Personalmente io sono per il mercato tutelato, però comunque non nego che magari molti operatori sul mercato possano comunque portare del giovamento per le bollette degli italiani. Ma soprattutto ci vuole molta sensibilità per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. E quindi io spero che operatori come Poste siano indirizzati a preferire produttori di energia che arrivano appunto da fonti rinnovabili. Senti, allora parto proprio da qui. La seconda domanda è dedicata proprio all'impegno ambizioso che vuole raggiungere Poste Italiane rispetto alla Carbon Neutrality nel 2030. E quasi il 50% della flotta aziendale sarà green e questo nel 2023. Le chiedo appunto, visto che la transizione energetica e la fase è senza precedenti, come appunto Poste Italiane può contribuire, secondo lei senatore, ad accelerare un po' questa fase, questo processo? Ma guarda, sicuramente questa della flotta è una grandissima notizia. Poste sarebbe da prendere ad esempio per molte altre aziende che hanno flotte aziendali importanti e quindi convertirle in elettrico, passare l'elettrico, sicuramente è una gran cosa. No, mi viene da pensare che tutte le aziende dovrebbero iniziare a iniziare dei percorsi di sostenibilità aziendale, nel senso fare in modo che la propria azienda possa avere una neutralità appunto per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico. Come Parlamento possiamo fare molto, abbiamo un PNRR che è da sviluppare, da concretizzare e sicuramente su questo potrà esserci spazio. I bandi devono ancora essere emessi e sono sicuro che spero veramente che anche gli operatori privati possano trovare giovamento da questi bandi, da queste opportunità. Tornando per un attimo all'attualità, senatore, il governo ha approvato la nota di aggiorgamento del DEF, il documento di economia e finanza, con una crescita stimata intorno a 6%. Insomma, questo è un dato che testimonia la ripresa indubbiamente dopo la pandemia. Poste italiane ha contribuito molto, questo non solamente dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista sociale. Se pensiamo al contributo alla campagna vaccinale, al grande sforzo logistico per la distribuzione di vaccini, pensi siamo arrivati a 20 milioni di dosi distribuite? Infatti, mi viene a dire meno male che c'è stata poste italiane perché ha realizzato veramente un grandissimo contributo. Ma io penso anche al passato, al reddito di cittadinanza, poste italiane veramente ha fatto veramente tanto. Tanto e dobbiamo solo ringraziare, vi ringrazio appunto da parte di quei cittadini che hanno avuto veramente bisogno di un servizio erogato in quel modo, in modo così capillare da poste. E questo sicuramente è un fattore di totale importanza per i servizi che erogate. Detto questo, sulla crescita, sì, abbiamo avuto appunto un 6%, speriamo per l'anno prossimo di riconfermare lo stesso dato, sappiamo che è leggermente inferiore. Però io veramente sono molto ottimista, soprattutto perché appunto arriveranno le risorse, una parte sono già arrivate, per il PNRR. Dobbiamo fare in modo che le nostre pubbliche amministrazioni diventino più digitali. Detto così sembra uno spot, in realtà con i servizi digitali si può fare tutto più in fretta da casa, in modo più efficace ed efficiente. Poste su questo è all'avanguardia e siamo dell'idea che tutte le aziende piano piano possano veramente convertirsi verso il digitale, in modo veramente importante. Ed è un percorso assolutamente importante e centrale, come sa, anche nella strategia dell'azienda poste italiana. E noi la ringraziamo molto per essere stata al TG Post e l'aspettiamo, magari prossimamente viene a trovarci nei nostri studi, senatore. A presto. Grazie, volentieri. A presto.